Restano nella rosa del centro-destra i nomi di Pere Moratti, oltre a Tremonti e all'ex PM Nordio. Più avanti nelle votazioni potrebbe apparire l'ex presidente della Camera Casini. L'identikit di Mr. X, l'uomo che la prossima settimana potrebbe diventare il tredicesimo presidente della Repubblica Italiana, a ieri sera era ancora assai confuso. I comunicatori ufficiali si affidano alla vecchia e cara formula, non sono stati fatti nomi. Il che potrebbe benissimo essere vero. La riunione, infatti, è stata sospesa per il troppo che ne debordava nelle agenzie stampa vertice ancora in corso. Ciò che ha sommamente irritato Giorgia Meloni è stato il lancio, dell'agi sul fatto che nel vertice si sia litigato sull'inserire o meno nella nota finale l'auspicio, affinché la legislatura prosegua. E così, lo ha messo nero su bianco nella sua, di nota, apprezzato il, senso di responsabilità, di Berlusconi. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha apprezzato assai meno le indiscrezioni uscite nel corso del vertice. Nell'incontro, non sono state formulate da alcuno specifiche proposte di candidatura né tantomeno sono stati posti veti di alcun genere. Semplicemente, FDI ha insistito affinché fosse chiaro che non auspica in alcun modo che la legislatura prosegua, come invece possono eventualmente ritenere le forze politiche della maggioranza. Ma attenzione! Se Berlusconi spera che Mario Draghi resti premier, Meloni precisa che la questione di Draghi al Quirinale, sulla quale non abbiamo espresso alcun giudizio, non è stata posta e sarebbe semmai problema che possono avere le forze che partecipano al suo governo. Un riferimento a un momento teso tra Antonio Tajani, ditelo che volete Draghi, e Gnazio Larussa, noi non mettiamo alcun veto. In realtà, Meloni avrebbe un doppio obiettivo per non sbarrare la strada all'attuale premier. Primo, un avvicendamento a Palazzo Chigi è tutto da costruire e non è detto che i partiti ci riescano. Primo, un avvicendamento a Palazzo Chigi è tutto da costruire e non è stata costruire e non è stata costruire e non è stata costruire.